mi chiamo barney thompson e sono un parrucchiere conosco solo un modo di fare le cose il modo giusto mi annoio spesso certe volte li ammazzeremo barney dobbiamo parlare si devo cazzarti barney non piace a nessun cliente non ci sai fare no ti prego migliorerò soldi poterlo non sono io a decidere mio paro non puoi farmi questo